mi trovo nella città vecchia di taranto precisamente in vicoporto ritorno a distanza di circa un mese e mezzo guardate qui questa è tutta l'area che è stata interessata negli anni da vari crolli è stata poi puntellata e guardate è stata murata è stato murato l'accesso all'interno all'interno vi faccio rivedere il porcile la bomba ecologica che c'è all'interno perché dobbiamo parlare così sì di bomba ecologica perché tutto quello che c'è all'interno materiale di risulta rifiuti di ogni genere ogni tipo si sta accumulando si è accumulato negli anni e nessuno si è degnato di realizzare un'opera di bonifica non è possibile signori cari che si metta un muro e si nasconda si tenga all'interno di tutto di più chi si è visto si è visto tanto no c'è il muro non si vede niente di quello che sta all'interno e si vive felici e contenti poi alla fine non lo so che cosa succederà con questi rifiuti che di ogni genere che stanno qui che stanno abbandonati qui da mesi e da anni siccome l'amministrazione comunale non interviene e se ne strafotte questa è la verità siccome l'ho detto in tutte le lingue l'ho detto a livello mediatico l'ho detto nelle sedi competenti ho segnalato agli uffici il problema nulla nessun tipo di intervento silenzio assoluto ora Luigi Abbate consigliere comunale di Taranto si muove per altre vie mi rivolgerò al dipartimento di prevenzione della ASL di Taranto mi rivolgerò al direttore e dirò caro direttore qui ci sono delle ragioni di ordine sanitario ci sono delle ragioni che riguardano la pubblica incolumità perché lei giustamente direttore lei dottor conversano lei cammina qui e non immagina quello che sta là dentro glielo faccio vedere io allora poi entrate voi fate un sopralluogo e dovete costringere costringere secondo la legge imporre intimare all'amministrazione comunale la bonifica come giustamente la ASL interviene per la sicurezza sanitaria alimentare dei vari ristoranti dei vari locali e fa benissimo a farlo anzi invito a farlo sempre perché parliamo di ragioni di sicurezza anche qui ci sono delle ragioni di sicurezza motivo per cui il dipartimento di prevenzione deve intervenire e deve intimare all'amministrazione comunale la bonifica la rimozione anche perché qui signori cari questa è stata murata ma questa è un'area è una strada è una via pubblica dove le persone camminavano pubblica poi l'avete tappata perché tra un crollo e l'altro e vabbè ma scusate prima di tapparlo non avete pensato a pulire quello che stava dentro ma si sa ormai a Taranto si vive così si prende la polvere e la si mette sotto il tappeto e non si vede come dire lontano dagli occhi e lontano dal cuore siccome a me piace scoperchiare gli altarini e far uscire parecchi parecchi cadaveri dalle tombe bene io farò vedere farò intervenire l'asl e verrò qui con il direttore del dipartimento di prevenzione poi voglio vedere come l'asl di Taranto dovrà dovrà per legge perché lo impone la legge prendere per le orecchie in senso metaforico ovviamente l'amministrazione comunale e costringerla e intimarla a provvedere alla bonifica qui è a rischio la pubblica incolumità qui c'è una bomba ecologica all'interno noi ve la stiamo facendo vedere con le immagini ma oltre il muro c'è di tutto di più non si scherza con la salute caro sindaco e cara amministrazione comunale e anche voi dell'asl dovrete intervenire altrimenti attenzione chi non interviene poi può rispondere nelle sedi competenti perché si potrebbe configurare se non si interviene il reato di omissione